Avrebbe sottratto tessere e buoni carburante della Polizia di Stato per rivenderli e guadagnarci per un valore di oltre 381 mila euro. Un 51enne ex assistente capo della Polizia che all'epoca dei fatti contestati gli tra l'ottobre 2015 e il luglio 2017 era responsabile della sezione carburanti dell'autocentro di Polizia a San Lazzaro è sotto processo. Fu lo stesso Ministero dell'Interno ad accorgersi dei pesanti ammanchi durante un'ispezione. L'ex ispettore avrebbe consegnato le tessere e i buoni per 6-700 euro a settimana a un complice che li acquistava pur sapendo che la loro provenienza era illecita.